Il Presidente del Consiglio Comunale di Lingua Glossa, Aldo Lucio Guzzetta, ha convocato per questa sera alle ore 18 una nuova seduta del civico consesso. 11 punti all'ordine del giorno, fra questi l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale anno 2017, la determinazione delle rate di scadenza dell'Atari anno 2018, la richiesta di scioglimento della struttura degli ospedali riuniti già riacireale e il ripristino del pronto soccorso nella sede di Giarre, come avevano già fatto numerosi consigli comunali dell'Interland. La modifica dell'articolo 44 del regolamento dell'acquedotto comunale, l'approvazione della piattaforma programmatica insegnanti siciliani, quindi la richiesta che questi insegnanti fuori sede possano lavorare nella sede di appartenenza. Altro interessante punto riguarda l'atto di indirizzo a sostegno della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per potenziare il corpo e sbloccarne gli accessi. Grazie a tutti.